Donald Trump è una specie di clown che vuole distruggere la democrazia americana. Ad affermarlo è stato l'attore Robert De Niro nel corso di un evento organizzato di fronte all'Aula del Tribunale di New York dove si svolge il processo a carico del candidato repubblicano alla Casa Bianca legato alla vicenda del presunto pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Oggi il giudice Juan Martian fornirà le prime indicazioni al resto della Corte che si ritirerà in Camera di Consiglio e si prevede pronuncerà una sentenza entro la fine della settimana.